Il prossimo strumento che voglio insegnarvi, qualcuno di voi già lo conosce, sono i cinque elementi. Quindi adesso vi diamo un assaggio di questi cinque elementi, ci sono cinque punti da ricordare. Cinque punti che permettono di cambiare lo stato emotivo in qualunque momento. Quindi lasciate giù gli appunti perché dobbiamo utilizzare le mani. E quindi questo ci aiuta per esempio a passare da uno stato di vittima a uno stato di trasformazione. Un'altra cosa sullo stato di vittima che dovete sapere è che potete essere a lavoro e trovarvi in uno stato di trasformazione. Vi succede qualcosa di brutto al lavoro, potete dire ok, voglio cambiare questa cosa, voglio diventare creativo, voglio trovare una soluzione. Questo è uno stato. Poi però andate a casa nella vostra relazione, per esempio potete essere una vittima nella vostra relazione. Magari siete il boss al lavoro e li fate fuori tutti, poi tornate a casa e fate la vittima. Vi succede sì o no? Sì. E quindi il discorso è questo. In un'area della vostra vita siete in uno stato, ma non significa che questo stato riusciate a mantenere in tutte le altre aree della vostra vita. Oppure viceversa, a casa siete in uno stato meraviglioso, vi arriva un amico o una persona che vi intimidisce. Quindi ciò che vogliamo fare è che vogliamo riuscire a gestire lo stato in tutte le aree della nostra vita. E vorrei aggiungere una cosa. Il motivo per cui è importante gestire il nostro stato è che il nostro cervello è un ricettore, ma anche un strumento che invia informazioni. E quindi anche se non ne siamo consapevoli, stiamo trasmettendo continuamente. Trasmettiamo, riceviamo. E il punto è che cosa stiamo trasmettendo? Stiamo trasmettendo dallo stato in cui siamo, dai pensieri che abbiamo. Queste sono cose concatenate. Se siamo stressati, i pensieri sono stressati. Le nostre credenze, le nostre storie che ci raccontiamo sono storie di stress. E quindi questo è il segnale che mandiamo. Quindi possiamo assolutamente essere creatori del nostro futuro, proprio in questo senso. E' questo che cerchiamo di insegnarvi, dandovi gli strumenti come il comando Crystalline, quello che abbiamo fatto adesso con l'intenzione, i cinque elementi, faremo il tapping adesso. Questi sono strumenti che vi aiuteranno a cambiare lo stato, così che le vostre onde cerebrali si trovino in uno stato di più rilassamento. Perché in questo stato di rilassamento non siete stressati, non mandate segnali di stress, ma create pace. Quando iniziate a creare pace in voi stessi, cosa succede attorno a voi? Giusto. La famiglia, le persone che vi circondano, coglieranno questi segnali e sarete un trasmettitore di pace sempre più potente quando loro si troveranno in uno stato di stress. E penso che questa sia la cosa più difficile che dobbiamo imparare nelle nostre vite, perché tutti siamo in continua relazione con gli altri. Che abbiamo un partner o no? Che abbiamo figli o no? Che abbiamo amici, colleghi, tutti siamo costantemente in relazione con altri esseri umani. Ed ecco perché dobbiamo capire questi stati, perché non ci rendiamo conto quando a volte andiamo a prendere lo stato di qualcun altro. Quindi il nostro lavoro qual è? È quello di non farci coinvolgere dagli stati stressanti degli altri, ma di trovare la nostra pace interiore. Cosa succede quando troviamo la pace interiore? Arrivano delle idee migliori, arrivano delle creazioni, creatività, troviamo delle soluzioni. Non riusciremo mai a trovare una soluzione in uno stato di stress. Troveremo una soluzione che arriva dal panico, ma non sarà certamente la più creativa, perché il nostro cervello creativo si accende quando? Quando arrivano le idee migliori? Questo è uno studio che è stato fatto a livello internazionale. L'83% di noi ha le migliori idee. Sapete quando? Se avete letto il libro, lo sapete, in doccia, nella doccia. Perché? Perché in doccia? Perché in doccia siamo da soli, capite? Da soli. Siamo da soli e non stiamo facendo nient'altro. Non siamo a telefono, vero? Siamo da soli in un ambiente caldo, rilassante e finalmente ci stiamo liberando dello stress. Ed ecco che arriva l'ispirazione. Quindi questi strumenti che vi daremo vogliono portarvi in questo stato di onde cerebrali. rilassate. Quindi cominciamo. Questo è proprio per interrompere gli schemi. Quindi andiamo a interrompere gli schemi. E quindi fate soltanto questo. E semplicemente facendo questo state influenzando il vostro cervello. Perché da emisfero destro all'emisfero sinistro stiamo attivando i punti dell'agopuntura. E la cosa più importante che stiamo facendo, stiamo attivando il fuoco interiore. Se lo facciamo per due minuti, noi ci sentiremo molto caldi. Ma non se lo facciamo così. Dovete farlo molto veloce, più veloce possibile. E respirate. Respirate. Respirate nella pancia. È molto facile. E adesso diciamo, amo e accetto me stesso. Anche quando mi sento una vittima e quando mi sento impotente e bloccato e non so cosa fare. E amo e accetto me stesso. Quando sono nel mio potere. Quando sono creativo. Quando sto trovando le soluzioni. E fate un bel respiro. E questo già sta arrivando al vostro cervello. Poi andate a sinistra, sotto l'ascella. Cominciate a fare tapping qui. Allora, il primo punto era il punto del fuoco. L'elemento fuoco. Se siete una donna, praticamente dove avete il reggiseno. Se siete un uomo e vi siete mai messo il reggiseno, siate onesti. Questo è il punto terra. Elemento terra. E qui diciamo cose positive su noi stessi. Potete fare una scelta. Potete dire, io merito. Oppure, se siete nello stadio 3, io mi do il permesso. Cominciamo con io merito. Io mi merito di essere felice. Io merito di avere successo. Io merito di essere in salute. Io merito una vita lunga e vitale. merito di poter controllare il mio stato. Merito di trasformare il mio stato. Merito il meglio. Merito di trasformare il mio stato. Un bel respiro. La persona che si adatta di più ha l'istinto migliore di sopravvivenza. La persona che è più rigida ha il peggior istinto di sopravvivenza. Quindi, ora diciamo, scelgo di lasciare andare tutto ciò che mi trattiene dall'essere flessibile. Sono flessibile. Mi adatto. Trovo il modo migliore per adattarmi. Cerco di farlo. E fiorisco. Cerco continuamente le modalità migliori. E ciò di cui abbiamo bisogno per adattarci è il coraggio. Qua sotto la clavicola. Qui troviamo il coraggio. Molti di voi non sanno che la paura è una porta nei confronti del coraggio. Una porta che si apre verso il coraggio. Quindi, se si attraversa la paura, si arriva al coraggio. Non c'è coraggio senza paura. Qualcuno che non ha paura, forse non ha necessariamente coraggio. Magari non sente la paura, ma non significa che sia coraggioso. Per sentire il coraggio dobbiamo passare attraverso la paura. La paura è importante perché ogni volta che dobbiamo cambiare qualcosa arriverà una paura dalla mente subconscia. Perché c'è la paura dello sconosciuto, la paura più grande che abbiamo. La paura dell'ignoto. Io sono molto coraggioso. Sono molto coraggioso. Sono così coraggioso che posso cambiare facilmente. Non sono bloccato. Sono libero. Ho il libero arbitrio per cambiare la mia vita. Ho il coraggio di dire la mia verità. Ho il coraggio di rivendicare ciò che è mio. Ho il coraggio di andare verso la vita migliore possibile. Ho il coraggio di avere a che fare con il rifiuto. Con il fallimento. Cambio il fallimento in una nuova storia. Sono potente. Sono pronto. Sono impegnato. Mi impegno nei confronti di me stesso. Per creare la vita migliore possibile per me e per la mia famiglia. Inspiriamo. E poi andiamo a destra. Il fegato. E qui nel fegato sta tutta la nostra aggressione, la nostra colpa, tutta quella roba lì, la rabbia. E molte persone amano perdonare gli altri ma si dimenticano di perdonare se stessi. Quindi adesso cominciamo a lavorare su questo, sul perdono di noi stessi. Mi perdono. Mi perdono per non aver preso la guida della mia vita. Mi perdono per aver creduto di essere una vittima. Di non avere potere. Di essere debole. Di non essere bravo abbastanza. Mi perdono. Per essere rimasto bloccato per così tanto tempo. Per non aver fatto tutto ciò che so di dover fare. E adesso sono pronto per riprendermi il controllo della mia vita. Sono pronto a trasformare il mio stato quando lo desidero. Ispiriamo. Adesso ripetiamo. Questo era il fuoco. Quindi qui facciamo crescere l'energia, la motivazione, il potere. Qua ci diamo una buona sensazione. Sentiamo di meritarci qualcosa. Questa è la terra. Quindi ci parliamo. Parliamo con noi stessi. Diciamo ok, me lo merite. Ok, posso averlo. Qui lasciamo andare. Questo è l'elemento metallo. Lasciamo andare il passato, le storie. Cambiamo le storie. Diventiamo flessibili. Questa è l'acqua. E qui entriamo nel nostro potere, nel coraggio di andare avanti e di fare ciò che dobbiamo fare. E qui guardiamo verso noi stessi. Ci perdoniamo per gli errori che facciamo. Perché siamo tutti esseri umani, capite? E adesso andremo a livello dell'anima e qui andiamo a integrare quelli che sono tutti i nostri chakra, a equilibrare i nostri chakra. Poi magari ve lo spieghiamo più avanti se non sapete cosa sono. Ma sono i cancelli verso la nostra anima e verso tutte le esperienze che abbiamo avuto nel tempo. I chakra non sono connessi solo a questa vita. Non importa se ci crediate o no, ma dentro questo corpo c'è un essere immortale che si trova solo temporaneamente su questo pianeta. Quando lasceremo il corpo, continueremo il nostro viaggio. Lo farete tutti voi. Non dovete credermi. Aspettate di morire, poi lo saprete. Io sarò lì ad aspettarvi e vi dirò, vedete, siete ancora vivi. Adesso che si fa? Sapete, la buona notizia è che di là tutti i seminari sono gratuiti. Quindi vi invitiamo a tutti i seminari che volete dopo la morte. Saranno tutti gratuiti. E qui ci ricordiamo di essere molto di più di un mero essere umano. Io sono luce. Io sono amore. Io sono divino. Io sono potere. Io sono tutto. Io sono uno. Facciamo un bel inspiro. Ora, semplicemente con questo strumento potete cambiare il vostro stato. Normalmente già questo basta, capite? Quando vi accade qualcosa, adesso vi racconto una storia. ero da qualche parte, dovevo cambiare il mio stato. Quindi sono andato in bagno ed ero in bagno che mi parlava, posso farcela, sono pronto, ce la faccio. L'ho fatto per cinque minuti e poi qualcun altro è uscito dal bagno, mi ha guardato, mi ha detto, è dura, eh? Però vedete, potete cambiare il vostro stato e anche Joy vi guiderà attraverso degli esercizi di respirazione perché la respirazione è un modo molto, molto potente per cambiare lo stato. Quando siamo stressati, respiriamo in uno schema diverso. Quando siamo rilassati, respiriamo diversamente. Quando vedete i bambini che si arrabbiano, proprio escono i fumi dalle orecchie. Quindi quando ci si riappropria del respiro, ci sono migliaia di modalità di respirare, possiamo cambiare il nostro stato. Vedete, non è sempre raccomandabile fare questi esercizi di fronte a qualcun altro. Poniamo che ci sia il vostro partner, la vostra partner e litigate e poi cominciate a fare, posso farlo? No, magari in quel momento no. Però potete respirare. Possiamo sempre respirare. Inspiriamo e ci rilassiamo. Poi faremo degli esercizi di respirazione per cambiare il nostro stato. All right? All right?